Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova modalità di Caffè con Rubens di questa nostra rubrica che grazie alla disponibilità di Good Morning Genova si è trasferita su questa pagina che ha davvero l'importante compito di assembrare un po' tanti contenuti per tenerci anche la testa allenata in questa quarantena forzata a causa dell'emergenza sanitaria. Di quello che andiamo a parlare oggi e in realtà per i nostri successivi quattro incontri che si terranno alla domenica mattina e al martedì sera, in realtà vi faccio un accenno adesso. Parleremo di un pittore, un pittore genovese Giovanni Andrea Carlone e un pittore che vive uno dei momenti più straordinari dello sviluppo del linguaggio artistico della nostra città, della nostra regione, eppure non lo vive continuamente qui. È un pittore che si muove moltissimo e quindi ha un'esperienza ovviamente per i canoni del tempo di tipo internazionale e soprattutto è un pittore che fa parte di una famiglia di artisti, di una famiglia che ha una tradizione di ditta, quindi di bottega, di lavoro nel campo dell'arte di oltre 100 anni. E questa sua anima di artista, che fa parte di una tradizione straordinaria, quella degli artisti dei laghi lombardi che si trasferiscono a Genova e poi diventano di fatto dei veri e propri artisti genovesi, è qualcosa che condiziona fortemente il suo linguaggio. Allo stesso modo, e lo vedremo, sono i linguaggi dei luoghi che lui incontra, delle personalità con cui ha che fare, straordinarie, pensate solo Gian Lorenzo Bernini, il Gaulli e tanti altri artisti molto famosi nell'area romana dove lui andrà a lavorare, a creargli altri modi di esprimersi. In questo primo incontro quello che faremo sarà cercare le radici, quindi andare a capire da dove esce Giovanni Andrea, quali sono i suoi tratti anagrafici, e a determinarne i linguaggi che poi vedremo germogliare in diversi luoghi, alcuni dei quali io penso molti di voi non avranno mai visto, e quindi è l'occasione questa per raccontarceli, per provare anche a comprendere come si lavora su un artista, come si ricostruisce la personalità di qualcuno che aveva fatto delle immagini il suo strumento di dialogo col mondo. Sono anche molto contento di poter dire che questo tema, ovviamente declinato in maniera più scientifica di quella che affrontiamo noi in questi incontri più colloquiali, sarà oggetto di una lezione presso la Fondazione Longhi, proprio in questi giorni, e spero che Giovanni Andrea, che è un pittore molto poco conosciuto e che ha avuto pochissimi contributi critici da parte degli studiosi, possa diventare un oggetto di interesse anche a partire da questi lavori. E allora andiamo a incominciare. E da dove cominciamo? Cominciamo da qui. Siamo sul lago di Lugano, siamo in un paesino, ora non è esattamente quello raffigurato in foto, ma la foto è più evocativa del contesto dove la famiglia dei Carlone nasce, l'area dei laghi Lombardi. Il paesino si chiama Rovio, la famiglia da cui proviene, qui vedete quelli che sono in questa zona del lago, i paesini da cui germogliano queste famiglie, vedete Rovio cerchiato doppiamente, e invece attorno Bissone, Campione d'Italia, Vigiu, Mendrisio, i grandi altri centri da dove vengono questi altri artisti che a Genova arrivano in massa. Ecco, da Rovio viene a Genova, alla metà del Cinquecento, Taddeo Carlone. Taddeo Carlone fa lo scultore. Qui vedete una delle opere più significative che lascia in città, cioè la grande fontana del Nettuno, costruita per Giovanni Andrea Primodoria, nei giardini della Villa del Principe, nella Villa del Principe Andrea, e Taddeo compie un movimento che noi oggi chiameremo di migrazione economica. Perché? Perché di fatto questi artisti, artigiani, queste grandi ditte familiari che si sviluppano, che hanno la loro radice in quest'area dei laghi Lombardi, si spostano nei centri dove è possibile trovare grandi committenze che possono permettere di mantenersi e di guadagnare dei soldi per aumentare il proprio benessere. Lo fanno a Genova nel grande secolo d'oro, quindi diciamo tra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento, lo avevano fatto anche nei secoli precedenti, i maestri Comacini, no? Che venivano da Como, lo hanno fatto in Francia, alla costruzione delle grandi cattedrali, lo faranno ad esempio con lo sviluppo della grande Russia del Settecento e con tutta la serie di importantissime committenze artistiche architettoniche che caratterizzano ad esempio l'impero austro-ungarico. Ecco, queste famiglie vivono un'eterna migrazione dietro i grandi cantieri dell'arte e Taddeo non fa eccezione, o meglio, fa eccezione per un dato abbastanza interessante, no? Trovare queste committenze così importanti a Genova, qui vedete un'altra inquadratura di questa meravigliosa statua molto imponente che ha a che fare anche proprio col potere che i Doria volevano sottolineare nella loro presenza sul territorio genovese, ecco, la situazione particolare di Genova che offre così tanto lavoro lo porta a diventare di fatto genovese e nasceranno infatti qui almeno due dei suoi figli, Giovanni e Giovanni Battista che sono il punto di origine, ecco, del nostro racconto. Infatti, mentre Giovanni pittore di fama importante artista con grandi contatti anche col milanese decorerà la chiesa di Sant'Antonio Abate a Milano è lo zio del nostro Giovanni Andrea Giovanni Battista è proprio suo papà. Quindi la persona da cui più direttamente Giovanni Andrea Carlone succhia, prende il mestiere. E il punto più significativo in cui questi due Carlone pittori all'inizio del Seicento, siamo alla fine degli anni venti, all'inizio degli anni trenta, cominciano a mostrare che davvero la loro ditta, una ditta leader nel panorama genovese, è in questa chiesa, che tutti i genovesi conoscono molto bene. è la chiesa dell'Annunziata del Vastato. Qui vedete ovviamente il pronao neoclassico costruito dal resasco sul progetto del Barabino nell'Ottocento, ma la chiesa è una chiesa che oltre alle origini molto più antiche della Cappella di Santa Marta, però ha una faccia totalmente barocca. Qui vedete questo straordinario interno, queste colonne rivestite in marmo rosso di Francia e in marmo bianco, che in realtà inglobano le colonne a rocchi bianco e neri della basilica gotica, ma che in questi anni che stiamo descrivendo, in questo 600, in cui la città, forte della sua predominanza finanziaria in tutta Europa, comincia a ridecorare tutti i grandi luoghi della città, ecco che la chiesa dell'Annunziata riceve una decorazione strepitosa. Sono attivi qui artisti come Carlone, certo, ma Giulio Benso, poi ci sarà Gregorio De Ferrari, lo stesso Giovanni Andrea Carlone tornerà in questa chiesa in un momento davvero significativo al massimo della sua vita e ne parleremo in chiusura di questo nostro incontro, ma tutte le campate sono affidate a Giovanni Carlone. Giovanni Carlone ottiene questa committenza straordinaria, sono i lomellini che glielo danno, Giovanni lavorerà anche nel palazzo di un altro lomellini, sono due cugini, si chiamano entrambi Giacomo, quindi insomma è problematico anche in qualche modo distinguerli sempre, ma Giacomo Lomellini, il moro, è il committente che chiama Giovanni Carlone a lavorare alla Basilica dell'Annunziata, Giacomo Lomellini, il doge, cioè la persona che nel 1625-17 respinse l'avanzata del duca Carlo Emanuele I di Savoia contro la Repubblica e invece lo chiamerà a dipingere parte del decoro lasciato incompiuto da Domenico Fiasella nel grande palazzo lomellini patrone che oggi è il comando militare dell'esercito e che si trova in largo della Zecca, quindi anche due luoghi piuttosto vicini. Che cosa succede però all'Annunziata? Succede che a Giovanni capita un inconveniente purtroppo irreversibile. Mentre occupato a Milano a portare avanti il cantiere di Sant'Antonio Abate muore. E morendo Giovanni la committenza decide di far passare il testimone nelle mani del fratello Giovanni Battista, più giovane Giovanni Battista, comunque già un artista maturo, compiuto, che ha dei modelli straordinari, che è in grado già di dominare diciamo l'entourage della ditta per portare a termine una committenza che richiedeva tutta una progettazione strepitosa dal punto di vista anche organizzativo e qui vedete alcuni dei riquadri dove Giovanni Battista Carlone va a integrare il lavoro del fratello scomparso. In questo meraviglioso riquadro in cui Cristo appare alla madre troviamo tutte quelle caratteristiche che fanno del Carlone di Giovanni Battista Carlone un pittore molto amato la capacità di raccontare queste storie in maniera strepitosamente eloquente guardate il gesto largo e quasi che mostra la sorpresa straordinaria e anche la gioia incontenibile di Maria che si trova davanti Cristo che le appare dopo la morte e l'affettuoso saluto di Gesù che porta questa mano al petto l'utilizzo degli affetti sia nella gestualità che nella trasposizione di questi sentimenti sui volti sono alcune delle cifre narrative che insieme a questa capacità di organizzare lo spazio e di gestirlo con questa notevole maestria nel comporre figure che vanno ad accumularsi in questi riquadri fanno di Carlone un pittore che diventa immediatamente richiestissimo e anche su questo vedremo in questi brevi cenni quali altri significativi cantieri Giovanni Battista va a lavorare in questi anni quasi certamente o meglio certamente Giovanni Andrea non è ancora al suo fianco Giovanni Andrea nasce nel 1639 quindi di fatto qui non è ancora probabilmente neanche nato come vedete queste scene che si vanno a intessere negli spazi della Basilica dell'Annunziata ci danno la cifra dell'importante impegno che il Carlone spende ovviamente però Giovanni Battista non lavora solo nello spazio sacro perché lo spazio sacro comunque ha tutta una serie di significative importanze ma dall'altra parte esiste tutto un parterre di aristocratici che si contendono proprio che cosa queste strepitose novità questa strepitosa qualità delle opere d'arte da poter disporre nei propri spazi invece privati e allora in uno spazio privato a me molto caro perché è la sede del dipartimento che si occupa anche di storia dell'arte cioè il palazzo di via Balbi 4 il palazzo Balbi Senariga e nel momento in cui ce ne occupiamo noi il palazzo posseduto da Francesco Maria Balbi ecco che troviamo un pezzo davvero incredibile pensate è l'ultimo e unico pezzo della collezione Balbi che è rimasto ancora in questi spazi è un grande olio su tela una striscia come se fosse un freggio continuo che corre intorno a una stanza dipinto ad olio su tela proprio da Giovanni Battista Carlone con una vitalità strepitosa e qui lo vedete sotto gli affreschi di Gregorio De Ferrari realizzati posteriormente e sotto vedete questo freggio ad olio meraviglioso che ancora oggi decora questo spazio del palazzo Balbi Senariga ecco in questo freggio vengono fuori tutte quelle qualità che Carlone sa mettere in campo ne abbiamo già parlato quando ho presentato i grandi affreschi della Cappella d'Ogale del palazzo ducale di Genova su cui appunto poi faremo anche qualche cenno in questa chiacchierata ma vedete qui come Carlone è capace di andare a determinare ad esempio quei caratteri del naturalismo che noi diciamo chi studia storia dell'arte in maniera scolastica attribuisce ad esempio alle scuole del Caravaggio o dei grandi naturalisti fiamminghi ecco Carlone non è da meno in questo vedete come emergono palmari i dati di natura di queste uve di questi melograni spaccati di queste prugne di queste pesche che danno proprio l'idea di una capacità narrativa con cui il pittore intesse la vita all'interno di queste pennellate di questi colori che vanno a comporre fiori frutti corpi acqua e determinano questa vitalità di questo strepitoso fregio narrativo guardate quest'altro dettaglio e qui vi rendete conto della capacità davvero straordinaria di questo artista che non era secondo a nessuno in questo tipo di esecuzioni qui vedete un altro esempio sempre di Giovanni Battista Carlone sempre gli stessi anni in un altro dipinto conservato al museo di arte sacra di Scaria quindi vicino a casa sua e che ci conferma proprio che questa ricerca questo modo di utilizzare il naturalismo pittorico era una sua cifra stilistica perfettamente riconoscibile non abbiamo qui bisogno di andare a cercare i Jan Ross i Van Dyck quelli che vengono definiti come gli specialisti della natura morta non abbiamo bisogno perché abbiamo la certezza che questo artista era perfettamente in grado con la sua capacità con la sua sensibilità di realizzare in maniera autonoma questo tipo di manufatti strepitosi allo stesso modo più o meno negli stessi anni quindi l'impresa dell'annunziata è terminata qui siamo alla metà del secolo nel 1650 Giovanni Andrea Carlone è un giovanetto a circa 12 anni e possiamo pensare visto che tendenzialmente in quel periodo storico si entrava in bottega tra i 12 e i 14 anni per terminare il proprio apprendistato che durava convenzionalmente sette anni la cosiddetta cartazio alla maggiore età che si conseguiva a 21 anni possiamo immaginare che già in questo cantiere che andiamo adesso ad affrontare Giovanni Andrea fosse stato coinvolto dal padre magari in quei ruoli marginali come la preparazione dei colori come il pareggiamento dei cartoni come l'assistenza di fatto nell'esecuzione di questi manufatti straordinari che avevano bisogno di un sacco di manodopera ecco possiamo immaginare che il giovane Carlone il giovane Giovanni Andrea seguisse Giovanni Battista in questa sede così significativa e questa sede è così significativa perché si tratta di uno dei palazzi più stupefacenti di tutta la Repubblica di Genova e cioè il palazzo Airolo Negrone in piazza Fontane Marose questo palazzo conserva al suo interno qui la vedete nella suggestiva visione notturna in occasione dei palazzi in luce quindi di questa apertura straordinaria promossa dagli amici dei musei di Genova e realizzata grazie alla caparbietà di Giovanni Rotondi Terminiello che ha sempre voluto insieme a Dezia Gavazza sottolineare questa necessità di una visione degli affreschi anche dagli spazi esterni ecco come si percepisce questa ricchezza della Genova dipinta qui questa galleria che vedete emerge proprio dalle tenebre e questa luce degli affreschi di Carlone ci permette di comprendere anche lo sviluppo nella dimensione architettonica del palazzo all'interno in questo percorso continuo vedete interrotto solo da degli elementi diciamo di finta architettura Giovanni Battista Carlone allestisce un racconto meraviglioso un racconto mitologico è la storia di Enea quindi una storia a cui Genova è molto legata proprio perché esisteva questo mito della tradizionale fondazione da parte di Enea e dei troiani della città di Genova un'idea che nasce da alcune fonti ovviamente non accreditabili ma molto suggestive da questo punto di vista e comunque la figura di Enea è una figura molto amata all'interno del parterre genovese e ritorna molto in queste celebrazioni che gli affreschi nei palazzi e soprattutto nei palazzi che fanno parte del sistema dei rolli prendono campo a raccontare le vicende delle famiglie le vicende delle famiglie possono essere raccontate o con storie le storie degli Adorno degli Spinola e ce ne sono molte o con gli esempi della classicità e allora pensate magari a tutti gli affreschi tratti dalle vite di Plutarco o da Tito Livio o dai grandi libri che narrano la storia di Roma e della Grecia Antica oppure dal mito e il mito diventa l'allegoria ad esempio della caparbietà della capacità di saper rischiare e negli obiettivi alti che Enea nel porsi anche contro le cose più impensabili come l'ira degli dei e nello sfidarle per arrivare a compiere il suo destino questa è un'idea potente molto potente che gli aristocratici spesso utilizzavano per raccontare la propria dimensione di grandezza ed ecco che Giovanni Battista si fa interprete di questa storia vedete che rimane fedele a una modalità narrativa piuttosto arcaizzante quindi le figure non sono libere in uno spazio illusorio ma lo spazio illusorio ospita una rappresentazione comunque estremamente suggestiva dove però è l'architettura a fungere da trompe l'oeil quindi da inganno per l'occhio e le storie sembrano quasi riportate in una sequenza narrativa che si dipana sulla volta ecco qui in questo bellissimo Enea vedete che ha più o meno la stessa azio del Cristo che abbiamo visto precedentemente e che sarà una di quelle figure fortunate ed eloquenti che torneranno moltissimo anche nel linguaggio di Giovanni Andrea Carlone ritrovate tutto la sapienza narrativa la capacità di raccontare di suggestionare di usare questi colori sgargianti anche per coinvolgere l'osservatore all'interno dell'opera che fanno appunto di Giovanni Battista un artista fortunatissimo questa galleria straordinaria per le quali foto sono grato a due persone veramente significative uno è un amico Maurizio Romanengo l'altro il Marchese Negrone che ci ha permesso di realizzare queste immagini ecco che torna davvero questa capacità inventiva strepitosa di costruire storie con le immagini qui vedete ancora qualche particolare di questa scena meravigliosa dove queste erme queste statue finte che devono però fingere la scultura reale si affacciano straordinariamente nello spazio dello spettatore negli stessi anni passano poco più di cinque anni anzi poco meno perché si tratta di una committenza che arriva a Giovanni Battista intorno al 1653 ecco che il Carlone ottiene la vera e propria consacrazione ed è un tempo strano perché l'affresco che Carlone realizzerà nella cappella del Doge tra 1653 e il 55 si colloca esattamente un anno prima di un evento tragico che sconvolgerà la Repubblica di Genova e che è la tremenda peste del 1656 e del 1658 che ucciderà due terzi della popolazione della Repubblica e comporterà ad esempio il fermarsi di tutti i cantieri il respiro sospeso e tragicamente spaventato terrorizzato di una popolazione che vede piombare a terra due terzi dei suoi membri nel costruendo albergo dei poveri nelle fondamenti esiste un bellissimo quadro di Domenico Piola realizzato come ex voto perché il Piola giovane sopravvive a questo tragico evento si vede in lontananza alle spalle della Madonna che intercede presso San Simone Stock nella chiesa dei Carmelitani in lontananza l'albergo dei poveri ancora in costruzione e le sue fondamenta che vengono riempite di corpi sono i corpi dei morti in questo contagio appena prima la città si celebrava in maniera straordinaria nella Cappella del Doge ed ecco che questa Cappella del Doge di cui forse alcuni di voi hanno già sentito parlare perché è stata protagonista di uno degli interventi di questi Caffè con Rubens in collaborazione con Palazzo Lucale Giovanni Battista dà il meglio di sé allestisce delle storie strepitose non solo narrativamente parlando ma anche come scelta di questi elementi incredibili la storia di Guglielmo Umbriaco di Cristoforo Colombo il massacro dei giustiniani a Scio e la celebrazione ovviamente centrale che è quella dell'iconografia che deve essere veicolata cioè la Madonna che viene incoronata come regina di Genova la Repubblica che sceglie un escamotage narrativo strepitoso non è più una Repubblica ma è un regno e quindi il cerimoniale internazionale non la vede più passare per ultima ma insieme alle altre monarchie e soprattutto i suoi pleni potenziari i suoi rappresentanti vanno di pari passo con i rappresentanti ad esempio del clero questo a noi sembra una cosa strana bizzarra perché si fa un artificio del genere che cosa importa ma in quel momento ha un'importanza centrale anche relativamente alla rivendicata autonomia che Genova stava cominciando a chiedere alla Spagna che la Spagna si trovava già sul viale del tramonto mentre stava sorgendo un altro grande potere quello della Francia che rivendicherà questa sua egemonia sulla città Ligure proprio col grande bombardamento del 1684 ad opera della flotta del Re Sole ma questa è un'altra storia torniamo alla cappella del Doge e nella cappella del Doge e qui siamo nel 1953 quindi Giovanni Andrea Carlone ha 15-16 anni e comincerà probabilmente a mettere le sue mani a spostare i suoi pennelli proprio su questi affreschi che noi stiamo guardando sono affreschi fortunatamente conservati in maniera meravigliosa e quindi possiamo essere certi che ciò che i Carlone hanno fatto Giovanni Battista e suo figlio qui viene ricordato senza dubbio da queste pennellate che ancora oggi noi possiamo vedere vado abbastanza rapido perché siamo in chiusura di questa nostra prima tranche vi rendete conto che di Giovanni Andrea abbiamo solo accennato ma questa costruzione necessaria per poi capire che cosa lui farà nei tempi successivi per andare dentro la sua dimensione artistica umana e anche poi per comprendere una volta tornato a Genova quali sono le sue operazioni e capire davvero là dove si trovano le grandi novità che lui porta in patria qui vedete Guglielmo Embriaco che prende Gerusalemme in questo sfondato architettonico meraviglioso che ci proietta in prima linea al fianco del condottiero a salire sulle torri d'assedio e conquistare la città santa e qui lo vedete invece mentre porta all'arcivescovo le ceneri di San Giovanni Battista prese a Cesarea quindi due imprese straordinarie l'una la conquista della città cardine per tutte le religioni monoteiste quindi la città santa di Gerusalemme alla testa dell'esercito che è comandato da Goffredo di Buglione e di cui l'Embriaco fa parte e dall'altra invece la dotazione alla città delle reliquie del santo qualcosa di fondamentale di importantissimo su cui si basa anche tutta una forma di comunicazione della forza di Genova che affonda le sue radici proprio nell'era delle crociate il 1099 il momento in cui Genova la città può freggiarsi della croce rossa in campo bianco che diventa poi il suo emblema ed ecco questi due riquadri strepitosi li vedete sono davvero straordinari con questo gioco meraviglioso del pavimento in commisso marmoreo che si sposta nella finzione dell'affresco e ci invita a muovere il passo in questa loggia che si apre come se fosse uno Stargate una una porta temporale su due momenti distanti nello spazio e nel tempo questo è il potere dell'affresco aprire la dimensione dello spazio e del tempo e proiettare chi guarda nella storia che il pittore allestisce coi pennelli sul soffitto impera la dimensione celebrativa della Madonna Regina di Genova e allora vedete la Madonna San Giorgio San Giovanni Battista San Bernardo San Lorenzo i protettori della città e attorno questo coro angelico strepitoso che si affaccia da queste logge che Carlone allestisce come se fossero dei veri e propri spazi in cui i musicanti si muovono evocando anche la reale cappella di musica che c'era che c'è ancora all'interno della cappella del doge e quindi costruendo di fatto un'architettura che illude ma conferma ma racconta anche tutta una serie di tangenze con il reale utilizzo di questi spazi e qui vedete ancora qualche dettaglio su cui non mi soffermo determinazioni tecniche lo spolvero l'incisione da cartone tutte cose su cui faremo qualche focus parlando della tecnica di Giovanni Andrea ma che è interessante far capire che derivano dal suo portato del lavoro con il padre quindi che cosa eredita dalla ditta una serie di capacità operative straordinarie che vedremo in atto nei cantieri più importanti di tutto il barocco italiano mentre scorrono queste meravigliose immagini realizzate da finestre sull'arte per un servizio dedicato alla cappella del doge arriviamo finalmente a un momento culminante qui vedete come Giovanni Battista è in grado di intessere di materia anche la fresco ed è una cosa davvero tecnicamente molto difficile molto difficile perché tipicamente lo si faceva sulle tele queste strepitose tele con le storie di Giuseppe che fanno parte della collezione Zerbone ci confermano davvero questa capacità di modellare di ragionare di tante tecniche o meglio di una sola tecnica che è questa tecnica corposa carnosa di dare materia attraverso il colore sia nella pittura d'olio che nella fresco ecco il punto centrale è questo ed è quello anche su cui questa volta chiudiamo noi non sappiamo niente a livello documentario di Giovanni Andrea Carlone fino al 1661 e in quest'anno noi lo troviamo residente a Roma nella parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte il luogo dove quasi tutti gli artisti andavano a vivere forse anche perché era più economico di altri guarda caso in quegli stessi anni in cui Gian Lorenzo Bernini insieme al Gaulli insieme ai grandi protagonisti della scena romana sta creando una grande bottega che si occupa anche di fare cose come questi quindi questi apparati effimeri straordinari per le grandi feste le grandi celebrazioni Giovanni Andrea in quegli anni Giovanni è già a Roma e che cosa vede a Roma che cosa fa che cosa incontra per poter realizzare le opere che tra poco andremo a guardare non solo a Genova ma in tutta Italia e questo lo vediamo nella prossima puntata e vi invito a seguirla sempre qui su Good Morning Genova e sempre con Giovanni Andrea Carlone